Abbiamo voluto dare un segnale forte con la presenza di un'isola ecologica, di un presidio informativo per informare la gente, formarla a differenziare meglio. L'isola ecologica appunto per dare un servizio evitando che i cittadini di passaggio usino queste aree come discariche, facendo un torto ai residenti di queste zone. Ma oggi un'attenzione particolare in più. Abbiamo appena ultimato la consegna dei kit per differenziare ai cittadini di Contrada Settefarini. Oggi si inizierà dal centro storico e contemporaneamente, personalmente, consegneremo assieme ai dipendenti della Tecra i kit dei sacchetti al porta a porta Contrada Scavone e quartiere Santa Lucia. Lo faremo in presenza di colui che si è definito cittadino tra i cittadini, il segretario locale della CGL, l'amico Ignazzo Giudice, che abbiamo voluto invitare perché è particolarmente ipercritico nei confronti dell'amministrazione e di questo nuovo calendario che serve a facilitare il cittadino nel differenziare, proprio per dargli dimostrazione di come la Tecra e l'amministrazione si stanno impegnando per fare in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di poter operare. Già ieri era stato invitato presso il centro comunale di raccolta, gli è stato mostrato tutto il materiale che è arrivato bello imballato, quindi il kit con i sacchetti, il secchiello per il vetro, non perché lui sia presente in qualità ispettiva, ma semplicemente perché è ipercritico nei confronti di questo radicale cambiamento nel sistema di gestione, per dare dimostrazione a tutti i cittadini che l'amministrazione si sta impegnando, non vuole vessare nessuno, vuole mettere tutti in condizione di differenziare e lo vuole fare al meglio.